Sabato 26 marzo l'MRN C12 Racing Team dell'imprenditore Gianmarco Marzeletti e dell'Avvocato Gianluigi Bianchini ha fatto la sua prima tappa a Loreto con due Ferrari nell'ambito del progetto di portare in tutta Italia le eccellenze della Regione Marche. Accolti da sua eccellenza Monsignor Fabio del Cing nella piazza del santuario pontificio della Santa Casa hanno accolto lo sguardo e l'interesse dei presenti e illustrato il loro progetto fatto di passione, perseveranza e amore per il territorio marchigiano. Al termine l'Arcivescovo ha benevolmente benedetto le auto e i piloti partiti poi per nuove destinazioni. Al termine l'Avvocato Gianluigi Bianchini